Disney Junior presenta un magico momento di Dottoressa Peluche Dotti e i suoi amici giocano a... ristorante Ma la chef Molly Molly... C'è la cucina un campo di anguria Molly Molly, va tutto bene? È come se avessi qualcosa incastrato in fondo alla bocca Che cosa pensi che sia, Dotti? Non lo so, ti porto dentro per una visita Così capiremo cosa c'è che non va Adesso ti dovrò fare una radiografia Che cos'è una radiografia? Sembra una cosa grave Una radiografia mi aiuterà a vedere dentro di te e non ti farà alcun male Se lo dici tu ci credo, Dotti Lo dico io E se lo dice lei, è ben detto Non è un trabocchetto Ehi, trovare le rime è divertente Vediamo che riusciamo a trovare Oh, ehi! Guarda quante frittelle sono rimaste incastrate lì dentro Molly, ci sono, ho la diagnosi Sei affetta da bocca pienosa frittellosa Questa è una diagnosi che riempie la bocca Ora la inseriamo nel grande libro della bua Hai tantissime frittelle incastrate in fondo alla bocca Questo accade perché parli con la bocca piena Credi di riuscire a toglierle? Dovrò eseguire un'operazione speciale Eh sì, e poi ti sentirai molto meglio Sta tranquilla, zuccherino Dotti ti rimetterà in sesto e tornerai a ingurgitare frittelle Pronta molly molly? Certo, sono prontissima! Cacciavite Luce tascabile E ora vediamo Pinzette Estratte Sei come nuova Sta meglio Oh, non ho più la tosse Grazie, Dotti Sei la migliore Questo è un grandissimo sollievo Che vuole festeggiare con un piatto colmo di frittelle? Scommetto che tu lo farai Ed è fantastico Basta che non parli con la bocca piena Così non si incastreranno più in bocca Esatto Quando stai masticando non parlare con noi Prima ingoia il cibo e poi dì ciò che puoi Devi masticare e l'ingogliare E solamente dopo puoi parlare Piano, mastica piano È il modo giusto e più sano È incomprensibile Oltre che orribile Dire invece Devi masticare Ed ingoia E solamente dopo puoi parlare La chef Molly Molly ha mangiato tante frittelle senza masticare Così Dotti le ha dato tanti consigli per mangiare senza poi sentirsi male Divertiti con tanti magici momenti E non perdere la serie Dottoressa Peluche a Disney Junior